Ottobre 1970. Fuochi artificiali al Centro per gli Affari Internazionali di Harvard contro la guerra in Vietnam. Questo è caos. Non permettiamo alla nazione di perpetrare il genocidio. Questo è caos. Può significare tante cose diverse. Questo è caos. Ci sfidiamo ad essere più caotici, più rivoluzionari, più disciplinati. L'urido vicolo, a pomodoro sbattuto, sulla roccia come a polipo abizzato. Pizzà, 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 pizzà. Ficca Vinsanta, ferita brasa, il sugo di Tortola. Fucilata alle cinque Ficca Vinsanta, ferita brasa. Ficca Vinsanta, ferita brasa. Ficca Vinsanta, ferita brasa. Abraza. Abraza. Ficca Vinsanta, ferita brasa. Ficca Vinsanta, ferita brasa. Ficca Vinsanta, ferita brasa. Adorasa! Grazie a tutti!